Nella bella chiacchierata dell'altro giorno c'è una cosa che mi ha molto colpito e quando ci hai raccontato delle tante esperienze musicali e professionali nel tuo percorso c'è stata una che tu ci hai detto che è stata particolarmente importante e che effettivamente mi ha colpito molto la tua esperienza nel mondo del liscio. Perché non ci dici questa esperienza? Sì, è bella questa esperienza perché era il 96-97, ero qui e già mi capitava di suonare con ospi, con gezzisti che venivano tramite Biangerelli che organizzava i concerti e allora tante volte chiamava me, tante volte chiamava Massimo Manzi e quindi insomma c'era fermento così e avevo voglia di suonare. Poi dico ma qui la cosa non si quaglia, c'è qualcosa che non funziona. Allora tanti amici mi dicevano ma tu ma che ci stai a fare qua? Quindi comunque sentivo il peso diciamo di un'aspettativa delle persone che mi conoscevano, dicevano ma perché non vai a suonare fuori, non provi così? E allora è stata singolare questa cosa perché sì così mi piacerebbe ma dove vado? Boh non lo so. Poi ho pensato invece ma che cos'è? Proprio per questo motivo la cosa che non farei mai visto le aspettative delle altre persone nei miei confronti andare a suonare il liscio. Dico perché per me sarebbe difficile dire questa cosa agli altri. Alessandro con chi stai suonando? Con un gruppo di liscio. E allora fu lì che praticamente dopo pochi giorni contattai tramite insomma una persona che quando gli dissi di questa mia scelta dopo mezz'ora mi portò una lista con tutti i gruppi, tutti i numeri di telefono di gruppi diciamo romagnoli e mi disse guarda che c'è questo gruppo che si chiama Bandiera Gialla che stanno cercando un batterista. Allora chiamai, andai con loro una sera che suonavano mi sembra in Lazio e il capo orchestra a un certo punto mi disse va bene adesso suona no? Allora così ho suonato senza sapere un brano così tutto ad orecchio. Abbiamo suonato così ho suonato e lui poi non mi faceva comunque scendere dal palco. Alla fine dopo un buona mezz'ora mi dice sì ma per me va bene ma tu che ci fai qui? E dico voglio suonare il liscio, vorrei fare un'esperienza diversa. È stata bella, è stata bellissima perché ho sentito di aver rotto ecco delle catene, una catena mia mentale, un qualcosa che comunque mi bloccava insomma. Quindi andavo a suonare con tanto entusiasmo, c'era tanto entusiasmo, ero il primo a scaricare gli strumenti, ero il primo a caricare gli strumenti, insomma la gente mi dice ma questo è matto e invece ho vissuto penso ecco un'esperienza proprio l'entusiasmo, la voglia di vivere, la voglia di suonare, la voglia di fare esperienze a prescindere dal genere musicale che oggi poi magari ecco il rischio no? O il rischio insomma si tende a etichettarsi, io sono un batterista, io sono, io sono, lo so, sono un po' titubante ecco su questa cosa qua. E quindi è bella la musica insomma, certo, liscio può piacere, non può piacere, però per me è stato significativo perché proprio ho sentito dentro me stesso questo andare oltre un preconcetto, andare oltre un'idea, andare oltre, comunque ecco quasi tradire un'aspettativa dell'altro, questa cosa che è difficile, però io ho fatto quello che… Una scelta impopolare insomma. Sì esatto, una scelta contro tendenza, non di moda, che però poi mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita, sì.